ciao amici benvenuti nella recensione di king of fighter 15 un grande ritorno storico adesso vi dico anche perché prodotto snk sviluppo interno lingue d'inglese giapponese con sottotitoli italiano disponibile per playstation 4 playstation 5 xbox one xbox serie x e s e ovviamente anche per pc la versione playstation 4 la versione xbox one possono ottenere l'aggiornamento gratuito per trasformare in versione playstation 5 o xbox serie x e s supporti 4k si retresi attivo no prezzo di lancio 59 euro e 90 l'edizione normale l'edizione speciale 89 89 euro e 90 che contiene il pass della prima stagione dei personaggi ovviamente sarebbero dei personaggi extra genere picchiaduro in 2d parliamo dalla trama che poi io non ho messo niente ho messo solo questo pettettino la serie debuttò nel 1994 e il picaduro king of fighter ha ritagliato emozionato molti fan in tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e un sistema di gioco unico insomma benvenuto nell'arena mi fermo qui passiamo a qualcosa di più importante l'aspetto tecnico sviluppato con l'unreal engine 4 e usando lo stile shenshening il gioco viene dato un tocco in stile anime molto accattivante per chi gli piace questo tipo di genere di giochi infatti strizza molto all'occhio molti fan appunto che gli piace lo stile anime come me praticamente ci sono delle abitazioni molto varie e dettagliate il tutto si muove senza cali di frame rate anche i personaggi loro design è stato ben curato dettagliati e con animazioni fluide e con la loro personalità unica e sono anche ben caratterizzati insomma dal punto di vista tecnico un bel lavoro per quanto riguarda al comparto audio devo dire che anche qui è stato fatto un ottimo lavoro musiche ben implementate a tema praticamente durante l'azione del gioco è un doppiaggio curato in inglese e giapponese con sottotitoli in italiano vediamo un po anche il gameplay se anche lì è stato ben curato ci vediamo tra poco eccoci qui con la parte del gameplay allora quando avevamo provato la beta e portato una line insieme al nostro amico davide il gameplay di king of fighter 15 lo ripetiamo ancora è immediato frenetico ma difficile da padroneggiare il gioco base parte con un roste di 39 i combattenti un numero molto superiore rispetto alle altre produzioni senza citare che ovviamente diventerà molto più grande con l'arrivo dei dlc appunto quel passo 1 passo 2 e via dicendo concentriamoci sui personaggi base tutti i personaggi sono bilanciati hanno le loro mosse da imparare per bene ovviamente ecco qui gameplay come dicevamo prima risulta essi immediato anche chi non è in questo genere di giochi saprà comunque lottare in modo dignitoso appunto gli sviluppatori per esempio hanno messo un autocombo in pratica quando voi premete un attacco a raffica automaticamente verrà situato una combo certo questo tipo di autocombo serve per quel tipo di giocatori diciamo le prime armi che vogliono un po imparare le basi e man mano scoprire le mosse di ogni personaggio ovviamente questa cosa funziona se in caso si lotta contro giocatori dello stesso livello o magari con diciamo con gli amici via dicendo però il problema che non funziona molto con i giocatori che sono già pratici che possono fare le combo quelle proprio devastanti però alla fine il combattimento comunque risulta essere dignitoso e si riesce comunque a segnare qualche colpo allora il gioco ruota sulle combo e sulle mosse speciali questo capitolo ha portato molti miglioramenti nel gameplay rispetto alle versioni precedenti ad esempio per inventare parzialmente gli eccessi di attacco e offrire un'opzione difensiva si è utilizzata la barra shuttle strike praticamente una sorta di parata una sorta di contromossa se vogliamo dirlo che scaglie il nemico dall'altra parte dello schermo questa mossa ovviamente fa calare un po' diciamo la barra della special combo quindi quando voi la utilizzate per compiere una contromossa calerà questa barra però ovviamente questo succede scagnando il nemico dall'altra parte farete comunque dei danni diciamo che c'è una sorta di difesa e anche vantaggio per quanto riguarda il combattimento poi ci sono le mosse speciali anche queste mosse diciamo sono un po' simile al street fighter praticamente quando voi caricate la barra energia che si trova in basso sulla destra o sulla sinistra dipende dove è il vostro personaggio anche se non è riempita tutta potrete comunque scaricare una mossa speciale di diciamo grande potenza per ricaricare dei danni aggiuntivi all'avversario sarebbe dei piccole mosse speciali poi ovviamente potete decidere di caricarla a pieno e ottenere la mossa quella finale quella proprio bella potente che mette a ko il giocatore avversario o sennò l'intelligenza artificiale insomma per quanto riguarda il gameplay devo dire che è una bella frenetico divertente e anche bello impegnativo adesso arriviamo alla sintesi per dimmi un po' cosa ne pensiamo di the king of fighter 15 se caso conviene o no a comprarlo ci vediamo tra poco ciao ragazzi the king of fighter di snk un grande ritorno dalla serie che era nata nel 1994 che non delude di certo i fan il gioco infatti è molto bello sia graficamente come avevo detto a uno stile shell scenic uno stile anime che attira molto gli appassionati tipo come me su questo genere di giochi infatti anche i personaggi sono ben caratterizzati costruiti bene con una loro personalità e poi ragazzi parte con un roster di 39 personaggi un roster che tutto sommato che diciamo a differenza delle altre produzioni è un roster vero corposo che poi è destinato a prolungarsi molto di più con l'arrivo dei dlc ovvero pass combattenti 1 pass combattenti 2 che ne prolunga molto di più il numero di giocatori tanto è vero che il primo pass arriveranno quasi a 59 lottatori insomma un bel roste bello corposo infatti gameplay risulta essere immediato frenetico ma difficile da padroneggiare per i giocatori più esperti ovviamente daranno vita e dei combattimenti molto ma molto impegnativi ovviamente però uno scontro con un giocatore alle prime armi tipo come me se la cava diciamo abbastanza bene grazie a comunque alcune trovate diciamo alcune soluzioni non proprio definitive ma che permettono uno scontro diciamo abbastanza dignitoso una volta che ho imparato anch'io le mosse tutto quanto ovviamente verranno fuori degli scontri veramente bei sostanziosi insomma il gameplay risulta essere frenetico divertenti immediato e anche impegnativo non tenuti di certi fan per chi gli piace questo genere di giochi sul gene piccaduro e ovviamente chi gli piace la serie di king of fighter il numero 15 secondo me ne vale comunque la pena comprarlo visto anche un prezzo diciamo piuttosto diciamo un estro 59 euro e 90 se caso prendete la versione normale se caso prendete la limite di sciocco già il passo 1 comunque vi porterete a casa un buon picchiaduro fatto veramente bene realizzato bene senza cali di frame rate insomma fatto come dio comanda bene questa è la fine della recensione di the king of fighter spero che vi sia piaciuta anche nei commenti fatemi sapere se voi conoscete la serie se caso ci state giocando oppure no anche un vostro punto di vista mi piacerebbe anche sapere diciamo cosa ne pensate anche voi vi invito a iscrivervi alle nostre pagine social ai nostri gruppi che trovate in link di iscrizione vi invito anche a passare nel nostro negozio consigliato che vende appunto videogiochi per playstation xbox pc nitido switch chiamato gamestat.it vi invito anche a iscrivervi nei gruppi i nostri amici malati dalla redazione nerd playstation 5 gruppo italiano e playstation fan club vi invito anche se caso volete e se caso venite a fare una vacanza alla venno mobilello a passare da borno nanti carlo che fa le auto riproduttore delle macchine della volkswagen se caso avete bisogno di una piccola sistemata alla macchina che magari della marca volkswagen o delle altre marche tranne quelle elettro diciamo quelli ibride purtroppo quelle purtroppo no però per il resto comunque vi invito anche a passare nei nostri canali colleghi con i loro rispettivi contenuti bene noi ci vediamo la prossima con nuove avventure spero che vi sia piaciuta e grazie come sempre per il vostro supporto ciao a tutti dal nuovo misterioso da lady blue e dal vostro amico bombe bye bye